Buongiorno a tutti, noi abbiamo oggi un incontro importante realizzato con l'Università di Torino e la città di Torino, anche la città metropolitana, con i giovani delle scuole superiori sui cambiamenti climatici. È uno di quegli incontri che faremo all'interno di quella che noi consideriamo l'educazione ambientale. La città metropolitana, oltre a lavorare con le altre istituzioni per andare a generare una rete importante che effettivamente lavori sul territorio per contrastare quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici, cerca di lavorare insieme ai giovani per rendere consapevolezza in loro e in particolare per far emergere delle progettualità, perché vogliamo andare a costituire quelle che si chiamano le scuole green sulla città metropolitana. Questo non deve essere inteso come un bollino, assolutamente, ma deve essere inteso come una idea di lavorare insieme per costruire delle scuole più sostenibili.